Salve a tutti, farò un video truccata non da me stessa ma da Serena Azzurra Dov'è il cartellone? No! Avrei fottuto un cartellone Ecco qua, Serena Azzurra Andate a visitare anche il suo canale, se riesco a capire come si fa vi metto il link da qualche parte Anche noi Faremo un trucco, come vieni Halloween? Ho paura, devo dire che ho paura No, praticamente questo trucco è come mi dovrei toccare io per fare uno spettacolo a Halloween E quindi lo farò su di lei, dato che si presta Lei si presta Io inizio con questo qua Che non so se si vede, sì È un cerone Come se fossi già abbastanza, chiede di mio Complexion pink colore 500 Che vado? Con molta nostalanza buttato sulla tastiera del computer Che vado? A bagnare Vai sui miei pantaloni A bagnare con il Pissante Pissante, fix plus Sopra la tastiera del computer di nuovo E con una spugnetta lo vado a prelevare e spiaccicare sulla faccia di Jamy Vampire Che non ci si vede Non ci si vede Non ci si vede Bianca Ok Aiuto Io ci si vede Ti giuro non vedo niente Non ti preoccupare Vedo io Aiuto Vedete? Che sbianca lo sbiancante Anche se lei Non ne dovrebbe aver bisogno Però No, c'ha i guanci rossi perché ho riso tanto Ma no? Che sa poi mai? Andate proprio Fin sotto Dovete proprio rendervi tutte bianche O rendere la malcapitata come in questo caso Io non so se ci sta entrando Non ci sta entrando Non ci sto manco a guardare Si vede in pezzo del tuo capo Si Ok Così Che È tutto Uniforme Non mettete Questo cerone sopra La palpebra Dell'occhio Perché Se no dopo Il trucco sopra Cioè Sarà difficile fare un trucco Sopra Questo cerone Questo è Solo per Compattare tutto Guarda la pellina Che sei bianca No dai non vedo niente No no E' chiaro No te li metti alla fine Mi importa Camina Io non ci vedo Ecco Zitta E così Oh mio Dio Ho paura Per fissare il tutto Io uso questa Che sono tutti i miei trucchi Che è il Cipria di Dior Molto chiara Sopra il computer Sopra la tastiera di nuovo Con questo pennellino Che è morbidissimo Pennellino Sì E' un pennellino Anche questo è un pennello Fava Andate Sembra il trucco di quando Virbush l'ha fatta Clio Tanto mi restare in tema Dovete andare La cipria serve per Compattare Tu compatti qui tutto Perché se no Ti va in bonus L'ira di Dio Non fate come me Che mi ha spiaccicato Tutto il trucco Però alla fine Viene una cosa carina Secondo me Terrorizzantemente carina Ok E questo era per fissare Fatto questo Voglio uno specchio Non puoi Fatto questo Dato che io non ho preparato nulla C'è tutto da cercare In fioreta e in furia Si prende Un ombretto nero Io uso questo Della Sephora Con il Un pennello angolato Che è uguale al mio Però l'ha pagato Due volte di meno E ora mi metto Un ginocchio Giammina Mi voglio scusare E andate a tracciare Una linea Che sarà una linea guida Per l'eyeliner Dopo Che esce Un po' dall'occhio E si va a congiungere Con il sopracciglio Questa Ripeto È una linea È Fiosa È una linea guida Per l'eyeliner Dopo Io faccio così Perché sono sbatta Essenzialmente Facciamo anche L'altra linea Sempre Con l'ombretto nero Uniamo Perché Hai pianto Non ti toccano I bruttoni Ok Mi viene Ti ho detto Che potete aprire l'occhio No guarda Non dici di entrare Perché si Fai lo zoom E io non ho Cosa del genere Ora Sempre con lo stesso Ombretto nero Che questo è È unibus Anzi no Aspetta Aiuto Tu ce n'hai il nero Qui che fa Nella paletta Della zona È strano Che abbiamo fuori Qua giù Ok perfetto Con il nero che fa Più intenso E questo Quindi è lino sfumoso Andiamo a Facciamo con i bambini Colora dentro le linee Quindi Ci facciamo da una parte E Coloriamo Tutto Di nero Allora perché Questo Di nero Non è Del coglione Coloriamo Coloriamo Sfumiamo E coloriamo È una tecnica Sfumosa Un po' Da creare Questa Questa Quest'occhio Che è un po' È così È un po' È un po' Cosa È un po' Demonia Madonna mia Ma dunque Va bene Facciamo anche questa È venuta L'edilizia Non è male Pensavo peggio Facciamo questa Cosa È venuta La doc Tanto Dovete essere demoniaci Halloween Non è che dovete fare I principi Sfumos Sul pisello Va a ridere Io Ti voglio Sul pisello Ma Non 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 C'è una certità Anch'io No C'è Ha 40 anni Ma ne dimostra Ok Questo qui È L'effetto Finale Che dovrebbe venire Anche per Accentuare Questo Stato di Cadavericità E Facciamo La stessa Cosa Da quest'altra Parte Sperando Che Venga La stessa Cosa Io Rido Io rido Perché Io posso Ridere Ok Marimena Vedrà tutto Questo Quando si Metterà Gli occhiari Ecco Facciamo In un modo Di qua Facciamo Facciamo Un altro Tipo Di sfumatura Aiuto Guarda Che anche Che io Quando Venne truccata Da Will Wush Si Ricredetta La fine Credetta Circa Guardi Ci siamo Aiuto Io sto Creando Viene La fascia Dei capelli Sori Ma Che cazzo Scusate Che cazzo Bip In ritardo Ok Picchiettate Tutto Qua Sì E qui E perderete La vista E qui Vedete È una cosa Molto cadaverica Da una parte In giù Da una parte Così Perché ci piace A noi Io non vedo Niente Mi giuro Ragazzi Ok Fatto questo Hai dato Un caccio Al tombolotto In lattuga Stiva In natta Ok Io farei Anche Ferma Sì Se nemmo Una caccola No No È una cosa Tutta studiata Che tu Non puoi vedere Ma è fatta A potta Ok Ok È un trucco Un po' Cadavera Io intanto Preparo lo struccante Ok Questa cosa qua Andiamo Con No aspetta Che qui se non si confonde Signori e signore Con un Io uso Non faccio come lei Io per l'eyeliner Usa un pennello Amorato Perché è più sfigata La cosa No perché Non mi è lasciata Quell'altro E andiamo a prendere Della make up forever Wow L'eyeliner Questo grigio Pagliuzzato Non Non c'ho il numerino Perché lo tolgo Io da dietro Ecco Quindi Ah già Il primo quello Viola sua È il numero 19 Ora che ci ripenso No è un passante Così E andiamo a fare Una linea Che non si vedrà Però darà quel tocco Dato che sono un po' brillantinosi Tanto per Darà quel tocco Di eleganza Brilluccicosa Quel tocco di rilievo Di risaltamento Dell'occhio Risaltamento Dell'occhio Che Comunque ci sta Che secondo me ci sta Poi Non ci sta Cade Se a voi non mi piace Non ce lo mettete Infatti Non ci sta Ridendo nessuno Chi ne sai Chi ne sai Ok Jonathan sta ridendo Per esempio Ciao Gianni Ok E questa è la parte Per quanto riguarda Il sopra Per quanto riguarda Il sotto Alzo allora Aspetta È deficiente Per quanto riguarda La bocca Io ora Con lei Farò un esperimento Che non ho mai provato a fare Prima Aiuto Sempre con il nostro No Con il nostro amico Non è una cazzata 87 Kiko 87 Kiko Non è Questo è Dovete comprare 87 Rossetti della Kiko È un rossetto Abbastanza indenso E lo andiamo a mettere Su tutta la bocca Della signorina Se lei si avvicinasse Non ci vedo niente Ma che te ne frega Io non so se mi devo avvicinare Nare Io c'ho ragione Tu no Con la mia finezza Nel mettere Il rossetto Sì Mi piace tanto Sbaffarlo Ma anche Sbaffato va bene Come direbbe Wewush Tanto va Usato Sbaffato 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 Ok Ok Poi rimetterlo là Dove era Volevo provare Secondo me A vedere Se io metto Questo qua Sopra le labbra A vedere Se viene Un effetto Più macabro Più vomiticcio Più Osso di morto Più Mettiti il dito Nella tasca Posso dire una cosa No Per avere l'effetto Più morto Andrò a messa La matita sotto Sì Zitta Non ce l'ho Fammi fare questa prova Va bene Quali Questo è Un pennello Utilissimo Il dito Il dito Brush Con il dito Brush Andate a fare Questo movimento Avrete questa Quantità Di nero Sul dito E fate così Di nero E' il... come cazzo si diceva? Il little brush Fai Fai Non ce la fa Dai No Fatto Ok E questo Senza tante altre complicazioni E' il trucco Halloween Cioè aspetta no prima Che la Gemina vorrebbe vedere Oh mio Dio Non verrà mai pubblicato No 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 se non lo pubblicerai lo pubblico io Però è terrificante dai E' terrificante Se è terrificante mettete mi piace a questo video Iscrivetevi al mio canale E al suo canale E non al mio tanto non c'è niente No c'è live Live fin a dei Grazie Gu E Vi salutiamo E' bellissima dai E' carina Ma prima che è un gnocca ci vado ora guarda Sto da andare a prendere un libro Vado così Tanto più nero mettetevi anche qui Ciao 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 Grazie.